Amici di Gilda TV ben ritrovati! Chiamata diretta, dopo 8 mesi nulla di fatto. La Federazione Gilda Unams lancia un appello al Presidente della VII Commissione del Senato affinché si proceda in tempi rapidi all'abrogazione della chiamata diretta dei docenti degli ambiti territoriali. In una lettera indirizzata al Senatore Mario Pittoni, il coordinatore nazionale della Gilda Rino Di Meglio sottolinea che, dopo 8 mesi dalla Prodo a Palazzo Madama, l'iter del disegno di legge non è ancora concluso e il rischio di iniziare il nuovo anno scolastico senza l'abolizione della chiamata diretta è concreto. La Gilda è sempre stata in prima fila contro la legge 107 del 2015 e, sottolinea Di Meglio, la chiamata diretta ha ricadute negative sulla qualità dell'insegnamento e sulla condizione professionale degli insegnanti. I tempi stringono ed è necessario riprendere l'esame del disegno di legge e accelerarne il cammino verso il varo definitivo. L'anno scorso la questione della chiamata diretta fu parzialmente risolta grazie a un contratto collettivo nazionale integrativo transitorio sulla mobilità. Adesso, conclude il coordinatore nazionale della Gilda, ci aspettiamo che a quel primo passo segua il superamento definitivo del meccanismo della chiamata diretta, perché la scuola ha bisogno della certezza del diritto. Un saluto e arrivederci da Gilda TV.